Iniziamo ovviamente con la taglia standard a pelo corto, a pelo duro, poi proseguiamo con il nano a pelo corto, il nano a pelo lungo, il nano a pelo duro e terminiamo con il kaninken a pelo corto, il kaninken a pelo lungo e il kaninken a pelo duro. Abbiamo otto rappresentanti per la categoria Bassotti, purtroppo due ci saluteranno perché come sapete ne dobbiamo selezionare sei sul nostro rindonore e manca un rappresentante precisamente il pelo lungo della taglia più grande degli standard. Intanto invito i migliori soggetti del prossimo raggruppamento che sono le razze da ferma nel pre-ring. Pre-selezione per il bassotto, venite qua sui bolli per cortesia, il bassotto kaninken a pelo duro, il kaninken a pelo lungo, sui bolli per cortesia lo standard a pelo corto, lo standard a pelo duro, il nano a pelo corto e il nano a pelo duro. Razze di origine tedesca, i bassotti utilizzati per la caccia in tana, tre taglie e tre varietà di pelo. Abbiamo visto muovere i due soggetti per quanto riguarda la taglia standa e ora è volta dei due soggetti di taglia nana, pelo corto e pelo duro ed infine vediamo i due soggetti tra la taglia più piccola, la taglia kaninken a pelo lungo e poi a pelo duro. Vi ricordo intanto l'appuntamento a dicembre 15-16-17 a Bologna Fiere per l'NC Winner che ospiterà anche l'Alleanza Latina. Eccoci col piazzamento al terzo posto per questo quarto raggruppamento lo standard a pelo duro. al secondo posto il nano a pelo corto e passi il turno il kaninken a pelo duro. Francesca concessantissima a guardare i bassotti con un bassotto sotto il braccio, questa è coerenza. Ti sei divertita oggi? Tantissimo. Allora hai vinto? Sì, sì, abbiamo vinto, abbiamo perso e passiamo qui. L'importante è divertirsi, vi siete trovate con gli amici, questa qua è una meraviglia e non riesco, sì, guarda, sono già pronti, ti hanno salvato. Salutiamo tutti. Ciao a tutti e al prossimo anno. Ci conto, prossimo anno vengo a intervistarti con più tempo. Ciao. Siamo pronti?